Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici. Ognuno di noi ha una serie infinita di brutte giornate. Ma che si fa quando si ha una brutta giornata? Tutto contro di te. In quel caso che fai? Nulla. Dai del tuo meglio, fai il tuo massimo, prendi atto, ci dormi su, lasci andare quel match per una carriera di successo. Non ho mai visto uno super pessimista, super cinico, avere dei grandi risultati in nessun campo. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici. A presto.